La ilaha illallah è la chiave del paradiso ma questa chiave non apre se non avendo delle punte i denti di questa chiave che permettono di aprire sono delle condizioni che i sapienti hanno esposto se ci sono queste condizioni la chiave apre altrimenti la chiave inserita La prima condizione è la sapienza del significato di la ilaha illallah se una persona la dice e non ne sa il significato non gli serve a nulla La seconda è la certezza che non gli venga dubbio alcuno che Allah subhanahu wa ta'ala gli vengono riservati tre tipi di tabuhin e che il profeta sallallahu alaihi sallam è il suo adoratore, servo e messaggero Sì, e l'Ikhlaz e l'Ikhlaz non è necessario La verità La verità La veridicità e dire ciò credendo ciò che dice perché ad esempio gli ipocriti lo dicono mentendo E' l'accettazione di tutto ciò che porta la ilaha illallah se rifiuta qualcosa di ciò con cui è giunta la ilaha illallah non li serve ed è indispensabile la sottomissione ed è indispensabile la sottomissione abbiamo detto che è indispensabile il laha illallah il rinnevo dei preparatori E' indispensabile realizzare queste condizioni di lei e lei e l'Allah. Sopo salato il madre, vediamo la descrizione della preghiera del profeta.